Il nulla assoluto è la migliore la cosa mio papà ha le scarpe rosa e anche il nonno che dolce pace assi pace ovviamente sono buffi questi test per vedere se uno è d'accordo è ovvio che sono per la pace no desolato io tifo per la guerra no guerra guerra tutta la vita così firmo le mie lettere guerra che la battaglia abbia inizio marcel